Salve amici del Centrometrio Italiano, spazio alla primavera nei prossimi giorni, ma proviamo a spingersi con gli ultimi aggiornamenti fin verso la Pasqua. L'ultimo weekend di marzo vedrà in transito una blanda saccatura in quota la quale porterà le nuvole sulla nostra penisola e anche qualche pioggia associata, special nord e sulle zone interne del centro. Con l'inizio della prossima settimana però un vasto e robusto anticiclone prenderà possesso del Mediterraneo, portando giornate per lo più soleggiate in tutta Italia. Temperature in aumento, con massime decisamente gradevoli che potrebbero superare i 20 gradi da nord a sud, con punte anche di 22-24 gradi. Nei primi giorni d'aprile l'alta pressione dovrebbe lentamente lasciare la presa spostando i suoi massimi verso l'Islanda. Nel weekend di Pasqua una vasta saccatura depressionaria potrebbe allungarsi verso l'Europa occidentale, innescando una possibile fase di maltempo anche sul Mediterraneo. Trattandosi comunque di una tendenza, seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Metitaliano. Un saluto da parte del Centro Metano.